E' stato uno dei più grandi congressi organizzati in Italia negli ultimi anni. Si è svolto al Teatro della Fortuna in piazza 20 Settembra Fano, il convegno dedicato alle nuove frontiere dell'ortodonzia, una disciplina odontoiatrica che si occupa dello studio, della diagnosi e della terapia della posizione anomala di uno o più elementi dentali. Due le giornate in programma, nate dall'idea di due esperti del settore, Federico Migliori e Paolo Francesco Gallo, all'iniziativa hanno preso parte oltre 150 medici dentisti. Paolo, è il primo evento di questo tipo che viene organizzato nella nostra città? Sì, questa è una particolarità di quello che siamo riusciti a fare. Solitamente sono eventi, congressi che vengono fatti in città più quotate, più famose, più grosse, più raggiungibili. Però se io e Federico abbiamo voluto scommettere sulla nostra città, avevamo troppo piacere di portare tutti qua nella nostra città e fargliela conoscere. E dai, il risultato che abbiamo avuto ci riempie d'orgoglio. Abbiamo entrambi avuto la possibilità di parlare in tantissimi posti, anche in giro per il mondo. Ma non vi nascondo che ieri parlare davanti ai nostri figli, nella nostra città, è qualcosa che ci ha fatto un grandissimo piacere. E da dove provengono questi dentisti? In realtà siamo da veramente tutta Italia, passando a Osta alla più profonda Sicilia. Qualcuno ha fatto dei viaggi della speranza per riuscire a raggiungersi, però questo ci fa un enorme piacere. Federico, quali sono stati i temi trattati? Durante questi due giorni il tema principale è stato quello dell'ortodonzia digitale e degli allineatori trasparenti. Quindi quella che viene considerata l'ortodonzia del futuro, che permette di fare dei trattamenti molto più confortevoli per il paziente, molto più estetici e ormai che possono essere utilizzati a tutte le età. Quindi parliamo dei bambini, adolescenti fino agli adulti. Sono intervenuti speaker internazionali, speaker di caratura molto importante proprio a parlare di tutte queste nuove tecnologie e ormai dell'utilizzo delle pianificazioni digitali che permettono ai pazienti di riuscire a vedere il loro trattamento futuro proprio prima di iniziare il percorso.